Siamo qui con l'attore Ferrando González, che è il protagonista e ideatore dello spettacolo Pegados, che andrà in scena nei prossimi giorni al Teatro Filadramatici di Milano. Volevamo farle delle domande. Come è nata la sua passione per la recitazione? Beh, è qualcosa che viene già da piccino, per suerte, perché credo che è molto importante. Ho avuto una famiglia che mi ha supportato molto, perché al principio è quello più importante. Tanto perché mi portavano al teatro, come per lasciarmi fare teatro. Dice che è una passione che è arrivato da piccolo, perché aveva anche di genitori appassionati del teatro. E secondo lui questo è molto importante, perché non solamente lo portavano al teatro, sino che li lasciavano fare il teatro. Un'altra domanda. Nell'incontro ha spiegato che il musical è composto da una parte che riguarda il testo e una parte che riguarda il mettere il testo in musica. Qual è la parte che le piace di più realizzare o comunque recitare? Non so se potrei escogere, perché non so se mi piace più scrivere o componere. La realtà è che mi piace fare le due cose, la verità. Lo che mi piace, lo che mi piace, è che non lo so, non posso escogere. Le piacciono che è molto difficile, che le piacciono tutte e due e che non può scegliere, perché le piacciono tutte e due, che dice che non può, assolutamente non può scegliere tra una delle due. Grazie mille. Grazie mille.